I fatti di questi giorni hanno imposto a tutti noi un cambiamento nei propri stili di vita e nelle proprie abitudini. Soprattutto la chiusura delle scuole impone ai bambini e ai ragazzi di stare a casa. E allora un suggerimento che mi sento di darvi è quello di curiosare le meraviglie che i rioni della nostra città nascondono. Qui per esempio nella zona di Rancio siamo in piazzetta San Carlo, dove c'è questa meravigliosa fontanella che fa da baricentro ad una piazzetta con la chiusa San Carlo appunto e il dominio dietro del corno della medale. Si tratta di un angolo che tutti i bambini possono immaginare, possono descrivere un pensierino e possono anche disegnare se lo vogliono. Questo permetterà di conoscere ancora di più la città in cui viviamo, prendersene cura e volerle tanto bene. Magari può nascere anche qualche suggerimento per migliorarlo, perché no? Vi aspettiamo!